Secondo i dati raccolti dall'Istituto Nazionale di Statistica nel corso del 2021, l'andamento demografico italiano è ancora una volta negativo. Al 31 dicembre 2021, infatti, i residenti nello stivale erano 253.000 in meno rispetto al 1 gennaio dello stesso anno e 616.000 in meno rispetto a prima dell'inizio della pandemia. Ad influire in modo particolare, oltre all'aumentata mortalità provocata dal Covid, è il ridotto numero delle nascite. La tendenza rilevata nei primi dieci mesi era negativa, ma a novembre e dicembre ha mostrato segnali di ripresa. Le nozze celebrate nei 12 mesi del 2021 sono raddoppiate rispetto all'anno precedente, ma su quest'ultimo dato pesano le restrizioni anti-Covid che hanno a lungo interessato il comparto.